bella amici e amiche mi sono dimenticato di far partire la registrazione come state come state allora stiamo ripacendo il punto di ieri il fantomatico punto rosso fantomatico caverna rossa è andata devo prendere più consigliere di ciò hai ah si è il posone oh questo spara dai che mi sta andando via la gente dalla allora legno che mi serve andiamo a vedere questo perché questo non me lo ricordo più che cos'è teori ha messo il ballino mi ha dato qua fuori e andiamo al boss il famoso boschino riusciamo a fare non c'è più nessuno che non frega allora amici amici se non avete ancora seguito il mio canale seguitemi immediatamente andiamo avanti in snow runner andiamo avanti in costraccio il stimulator andiamo avanti in un soldino adesso ce ne sono due uno si va avanti quello devo stare attento da che si casco dentro come si è legnata in acqua e mi ha tirato via il cuore le stracce eccolo qua quindi torniamo indietro perché dall'altra parte sicuramente c'è qualcosa ah ok grazie che mi ha dato un po' così qua mi ha riempito il cuore qui si fa la colore delle carte e come poter genito da mi ha fatto ok ho certo anzi qui adesso ce n'e' due la rispiduo io dammi la carta che non ho questo non l'ho mangiato forse mi ha dato un mezzo cuore mi ha dato un mezzo cuore anche questo problema ho che non mi ricordo mai più carte mi danno e quindi li faccio sempre le stesse eh Guzion ci siamo l'ho fatto grande si si adesso si converto aspetta un attimino non scappare eh un manuovo dai un manuovo dai un manuovo dai un manuovo dai i mi ha aumentato i danni e un pezzo di pavimento, credo. Oh, tutto mi dà stavolta, sì! Questo è per me, sacrificio on the flash, di chiaro modo, credo. È particolare questo gioco, mi piace un casino. Ah, visto che stavo chiacchierando mentre ho anche il... Allora, tu vuoi subito il gabbio. Beh, non c'è più niente, perché è arrabbiato? Non riesco a capire. Allora, secondo me, io ho sbagliato. Ok, facciamo questo, perché secondo me... io ho sbagliato, nel senso, devi fare la farm dentro le cose lì. Certo, ho fatto l'altro, non è l'altro? No, non è l'altro, non è l'altro. No, non è l'altro, non è l'altro. Faccio roto. Faccio l'altro, non è l'altro. Quindi, facciamo la visione, non è l'altro. ok facciamo questo qua del foco il foco mi piace contenta? ok devo assolutamente qua nessuno non mi frega più quando capirò che cosa devo fare con quelli lì che c'hanno con la faccia lì? che cosa c'è? che cosa c'è? che cosa c'è? che cosa c'è? ma scusami 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 mazzo se io che cosa c'è? non scusami mazzo so scusami mazzo che cosa c'è? ok allora ma io posso distruggere qualcosa? possiamo mettere anche due, noi che ce ne prego? quanto ci costa? quanto costa la fara? 20 non è vero, non è vero, non è vero. una volta che fa l'idea di che cosa sono quei robidi però adesso andiamo subito a fare quell'altro prima che succede qualcosa e non piantiamo niente ok ho già fatto la pappa ok niente qua non me ne frega niente nel senso ma non c'è la possibilità di distruggere la pappa Grazie a tutti. 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 Allora, nessuno che vi prega più, facciamolo di cambiare... No, da fatto per questo... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Allora, no, 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 no... Allora, prendiamo le cose e poi andiamo a fare un'altra missione... Allora, io devo capire come si fa a distruggere... Allora, no, no, no... Ok, così mi piace... Bello... No, no, no... No, no, no... No, no, no... capite che cosa ok questi dobbiamo mandarli imparare sto gioco non è così sono cresciuti già il fertilizzante non ne abbiamo facciamo un giro, mettiamo un po di fertilizzante eccolo qua non c'è niente, comunque possiamo piantarne allora dove dormo, non posso sistemarla, come faccio? forse non ti piacciono le cose che ho cucinato hai fame? vediamo se si mangia e le piace sempre così è però vediamocene immediatamente a fare l'altra parte a 50 ce l'abbiamo? non mi spiace non vuoi 50 non posso ci vediamo quanti soldi mi dà da qua allora allora carta subito oh questa non ce l'ho di averla un fugo mi ha aperto la valle di figlio sporgotto gotti l'ho l'ho Sì, sì, sì. vada 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 beh buff con la mura vedi che ho tirato a caso stavolta l'acqua vada 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 Sarebbe icone. Un coso come una ramosa e bassa. Era difficile solo il primo pezzo. Un coso mi da 3 quanti, non è che? A parte che ho fatto il missionario là, eh? Ah, è un regalino. Ok. Io ho disperato bisogno di gente. Ok. 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 Suizietta è poi. Senti ti s fields e che faccia sonarosa. Ok. Ma che sei? Hai ieri che haresses sonarosa? Ok. Nessa cosa c'è? Ok. E meuou. Ehm,inku." Bene. come se la casetta c'este robe o quali che vengono a che legnata bello allora no mi piace quindi possiamo equipaggiare questo che sinceramente ci sta no sei serio hai fatto un non c'è ancora la spada di la che stava qua facendo una postatina e glielo ho fregato devo capire come è già il boss e chiesto chi è che fortuna è amici amiche io vi ricordo che ci sono sul mio canale anche allora 9 questo questo sono tutte cose che mi danno le decorazioni sicuramente per i platini serviranno ho 73 coin eh se non lo posso prendere adesso il tipo eh devo fare dungeon 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 guarda eh e sul mio canale ci sarà anche il day one facciamolo parlare star wars il nuovo star wars eh della ubisoft quindi venite a vedere il canale di marco drums games e con tutti gli altri giochi poi eh come vi ho detto oggi faccio foot of the land faccio wukong faccio un po' di roba faccio giù c'è me one vuoi vedere questa parte qui che cosa c'è oh sono i venditori nati perci qua oh questo non me lo spettavo come era da vi vedi bisogna capire anche quei robiti che cosa sono bisogna capire anche quei robiti sono ah posso vendere forse ah a 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 questo ti devo rimettere ancora in prigione che proprio non la vogliamo capire a 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 all'inizio a 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 lavorare a 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 andiamo a fare l'altra parte del di questo non so una volta che poi si aprono tutte le porte si possono rifare i denti o anche così a 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